Potete realizzare benissimo una pina colada senza alcol, virgin colada, dove al posto del room aggiungete il latte e qui la versione potrebbe essere benissimo sia frozen drinks, quindi con il blender, ma adesso vediamo un'altra versione che è shake and strain quindi utilizzando mixing glass e shaker, vostro le proporzioni qui sono 10 centilitri di latte e 4 centilitri di pignacola da mix bevanda piacevole, dissetante anche, soprattutto per bambini dove possono avere una bibita con ghiaccio che sa di cocco e latte come per la pignacolada, anche per gli altri easy cocktail che abbiamo visto, potremmo avere la versione virgin soprattutto per il sex on the beach potete aggiungere il succo di arancia oppure per il cosmopolitan e l'apple martini, giostrarvi con soda, ginger ale, lemon oppure tonica